Bene, ore 9, possiamo partire. Buonasera, eccomi qui anche questa sera per il consueto appuntamento musicale. Questa sera vorrei eseguire un brano, Day Deep Purple, martedì 31 marzo 2020. Vorrei eseguire questo brano, molto significativo, e per l'occasione chiedo l'aiuto di un ospite super speciale che mi aiuterà nelle parti vocali. Io eseguirò invece la melodia. Allora, vediamo se è pronto. Pronto? Ciao Stefano! Oila, ciao, come va? Tutto bene, grazie. Andrebbe meglio se ci potessimo vedere di persona, ma per stavolta ci accontentiamo così. Vedo che fa caldo lì dalle tue parti. No, no, è solo che ho la lampada accesa, ci sono mille gradi Fahrenheit qua in studio. Allora, hai studiato il pezzo che ti avevo chiesto? Beh, studiato, l'ho studiato. Avresti potuto scegliere uno un pochino più semplice come prima collaborazione. Mi hai fatto sudare sette camice. Eh, va bene, dai. Però volevo fare qualcosa di particolare per stasera. Allora, dimmi quando sei pronto che partiamo. Va bene, dai parti pure. Allora, grazie. Allora, grazie. Allora, grazie. Allora, grazie. Allora, grazie. I'm shooting into the dark Who will I find Oh girl And if it takes me a lifetime I swear I'll tear down every wall Love conquers all On my way Tomorrow I'll rise with the sun Soon I'll be gone Any other words can say How the memories feel in a blow They linger on Oh girl And if it takes me forever I know it's worth every teardrop that falls Love conquers all Yeah Yeah Somewhere there's a place in your heart Where the wounds never heal You're not alone That's just how I feel I know it's worth every teardrop that falls Grazie per la visione Grazie per la visione